Fabio e Nicole aspettano un figlio? La foto che scatena i fan Fabio con l'orecchio Nicole mazzocato di uomini e donne e futuri genitori? . Questa domanda sorge spontanea nel momento in cui ci troviamo sul profilo Instagram di Fabio con l'orecchio, ex tronista di uomini e donne. A tempo dovuto il bella argentino scelse Nicole mazzocato, preferendola a Silvia Raffaele. Sul profilo dell'ex tronista balza all'occhio una foto anzi, più che la foto, la didascalia. . La foto ritrae i due fidanzati che, complici, sorridono guardandosi negli occhi ma non solo. . I due hanno in mano due calici pieni, quasi a voler brindare a qualcosa di bello che sta per accadere. In connessione a ciò, si nota la mano dell'argentino poggiata sulla pancia della bella neo-attrice. . Se poi vogliamo essere ancora più precisi, questo bel quadretto è accompagnato da una didascalia che lo stesso Fabio ha scritto quando ha postato la foto sul social, Noi intanto facciamo già le prove senza accorgerci e cancellettos. . . Tra queste parole spunta l'emoticon di un neonato a dare senza la foto. . Senza la stessa emoticon, infatti, questa foto potrebbe insinuare anche un futuro, prossimo, matrimonio tra i due. . L'emoticon però è abbastanza chiare e i commenti sotto la foto sono di buon augurio per la futura nascita del piccolo coloricchio. . . Fabio e Nicole non hanno ancora smentito né confermato pienamente la lieta notizia, fornitaci dallo stesso coloricchio, tra l'altro. . La coppia è una tra le poche coppie del programma ad essere ancora in piedi, anche se il figlio che potrebbe nascere da questa coppia non sarebbe l'unico ad avere genitori che si sono conosciuti in un contesto televisivo. . Anche Eugenio Colombo e Francesca del Taglia hanno un bambino di nome Brando, Aldo Palmieri e Alessia Tammarota hanno addirittura due bambini, Niccolò e Leonardo, nato recentemente. . . Sulla coppia composta da Christian Gallella e Tara Gabrieletto circolano diverse voci che insinuano l'allargamento della famiglia, dopo il matrimonio, ma sono sempre state prontamente smentite. . Una coppia storica invece, composta da Diego Conte e Annalisa Mecchetti, ha recentemente confermato di essere in attesa di un bebè. . Il percorso di Fabio e Niccol a Uomini e Donne. . Fabio Colloricchio e Niccol Mazzocato si sono conosciuti a Uomini e Donne. . Dopo essere stato rifiutato da Teresa Ciglia che preferì Salvatore di Carlo Maria De Filippi decise di proporgli la fattidica sedia rossa. . Fabio e Niccol si conoscevano già prima del programma, e da qui i dubbi di molti, ma, a quanto pare, l'amore è sbocciato solo nello studio di Canale 5. . La coppia, tra alti e bassi, sta insieme da poco più di due anni. . . Dopo aver superato diversi momenti di crisi i due vorranno allargare la famiglia. . 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